perché devi metterci la faccia nel web marketing immobiliare ciao io sono francesco bersani e sono il fondatore di web marketing immobiliare come vedi ci sto mettendo la faccia perché lo scopriremo in questo video perché ti consiglio di fare lo stesso allora partiamo da dal problema di fondo il problema di fondo è che forse siamo stati abituati è sempre stato così fino a qualche anno fa fino all'avvento del web dei social di fare semplicemente il nostro lavoro quindi io faccio il mio lavoro offro il servizio di compravendita immobiliare e mi devo preoccupare solo di quello sì faccio l'annuncio sui giornalini pubblico l'annuncio sui portali però poi insomma basta io poi devo fare il mio lavoro e non devo fare tra virgolette il pagliaccio che in realtà non è fare il pagliaccio o meglio non non devi per forza fare il pagliaccio per comunicare online quindi questo è il problema cioè fino a qualche anno fa non c'era questa esigenza perché bene o male si riusciva ad essere competitivi ora che succede si vede che chi riesce a comunicare chi ci mette la faccia chi fondamentalmente lavora sulla costruzione di un brand forte si vede che ha una spinta in più a una marcia in più a un fattore competitivo che lo aiuta e attenzione questo fattore competitivo poi ricade positivamente anche poi su altre attività di marketing di marketing come l'advertising perché lo dico sempre una campagna pubblicitaria fatta verso delle persone che comunque già ti conoscono ha un impatto nettamente maggiore rispetto a persone che ti vedono per la prima volta peraltro in un in uno spot in una sponsorizzata quindi un conto è aver ricevuto prima del valore attraverso appunto contenuti e poi uno ti chiede magari di acquistare di rivolgersi a lui per i propri servizi e prodotti un conto è non averlo fatto c'è una grande differenza ecco perché il pubblico che già ti conosce ha ricevuto del valore quantomeno si fida un po di più in quel caso anche la campagna pubblicitaria funziona meglio quindi diciamo che non è più un'opzione questa cosa qui è importante è importante farlo e non puoi non puoi rinunciare a questa opportunità che ti dà oggi il web che è quella di poter comunicare di poter dare un volto al proprio brand perché fare quelle comunicazioni così istituzionali no quelle dove si vede il marchio ma non si vedono le persone non hanno l'impatto di vedere chi c'è dietro chi è la persona chi è il volto dell'azienda chi rappresenta quell'azienda e non serve andare molto lontano per capire come questa cosa funzioni abbia impatto pensiamo ecco l'esempio più eclatante ovviamente è quello di steve jobs steve jobs immagina la apple senza steve jobs immagina la apple senza tutta la rassegna stampa di tutti magazine quotidiani che parlano di steve jobs della suo nuovo prodotto della sua nuova creatura di cosa ha fatto steve jobs pensa alla copertura mediatica che steve jobs ha fatto ottenere la apple grazie alla sua attività di front man grazie all'attività di proprio di comunicazione i suoi lanci dal palco no le sue presentazioni sui keynote pensiamo a a chi c'è attualmente a ilon musk ilon musk che impatto ha sulla tesla e su tutte le altre iniziative che ilon musk va a intraprendere ha un impatto che poi ti porti dietro nel senso che il vantaggio di creare un brand personal brand ricade positivamente poi su tutte le attività imprenditoriali che vai che vai a fare guardiamo a casi un po più nostrani ecco ti faccio l'esempio ne parlavo in uno dei miei podcast di giovanni rana quindi immagina gli spot del pastificio rana senza giovanni rana è tutta un'altra cosa ecco perché ti dico ce la devi mettere la faccia ora ce la puoi mettere in diversi modi e vedremo quali sono questi modi ma in qualche modo si deve vedere che c'è dietro si deve vedere chi è il volto chi è responsabile che il rappresentante principale non deve essere per forza il titolare dell'azienda ma ovviamente per piccole realtà è così ma magari può essere una persona di riferimento nell'azienda che magari ad abilità nel nel comunicare e quindi di creare questo vantaggio competitivo per la propria azienda in fin dei conti le persone vogliono parlare con le persone non vogliono parlare con un risponditore automatico vogliono parlare con una con un computer non vogliono parlare con un marchio vogliono parlare con una persona quando tu contatti un'azienda vuoi parlare con qualcuno con un umano ecco perché questa cosa poi funziona perché siamo ovviamente animali sociali e vogliamo relazionarci con delle persone non con delle entità astratte come potrebbe essere quella di quella di un un brand e un altro concetto che fondamentalmente deve entrare nella testa di tutte le imprese anche le più piccole anche del singolo professionista anche dell'agenzia immobiliare della gente da solo con segretario e mezzo servizio deve entrare questo concetto ovviamente ognuno con le sue possibilità e risorse chiaro ma non è più un'opzione comunicare e quindi dovremmo comportarci chi più chi meno a seconda delle risorse ovviamente come delle media company cioè all'interno della propria azienda ci dovrebbe essere un'altra azienda che si occupa appunto di comunicare e di fare marketing quindi mettiamo tutto sotto lo stesso cappello perché chiaro fare personal branding ha un impatto indiretto sul sulle vendite sulle acquisizioni ma comunque ce l'ha quindi dovresti inserire nelle routine nelle attività dell'azienda anche quella appunto della creazione dei contenuti e anche quella è ovviamente già già c'è questa attività nelle agenzie chi più chi meno del marketing dell'advertising del marketing risposta diretta delle sponsorizzate sui social network delle campagne su google e così via delle newsletter quindi devono essere attività non più sporadiche una tantum quando mi ricordo quando c'ho tempo faccio quella campagna di branding quando c'ho tempo faccio un video quando c'ho tempo faccio un articolo non funziona così anche perché se fai queste attività in modo costante questo ti permette poi di migliorare molto se invece queste attività le affronti una volta ogni quando ti ricordi è tutta tutta un'altra cosa poi più facendo più le fai più diventano più semplici e facili da fare meno tempo poi ci metti per per realizzarle ad esempio se hai come idea quella di aprire un canale youtube di fare dei video comunque in modo costante ecco il consiglio che ti posso dare non fare magari tanti video per poi scoppiare piuttosto ne fai uno a settimana fosse anche uno ogni 15 giorni ma sempre e lo fai per un anno intero vedi che questo ha chiaramente un impatto rispetto a fare quei cinque dieci video e pubblicarne uno al giorno e poi e poi non fermarsi e quindi non mettere più non mettere più risultati da quello sforzo che che si è fatto perché serve fare tutta questa roba qua perché con gli annunci immobiliari e questo non accade perché le agenzie si limitano a promuovere i prodotti i prodotti che hanno i servizi che hanno e non lasciano spazio a questa attività di comunicazione che aiuta poi a costruire e rafforzare il proprio brand l'ho detto tante volte gli annunci immobiliari sono uno strumento importante nel marketing di un'agenzia immobiliare ma non possono assolvere a tutto tutti i compiti del marketing quindi fanno un lavoro che è quello di presentare i dettagli tecnici di un prodotto ma non trasmettono ad esempio tutto il valore che sei in grado di offrire al mercato non trasmettono tutto il lavoro che fai dietro la vendita di un immobile e poi non ci lamentiamo se le persone sottovaluano il lavoro di un'agenzia immobiliare che lavora bene dicendo vabbè ma tu hai appeso un cartello hai messo un annuncio online sono bravo pure io così quindi perché ti devi prendere tutti quei soldi perché non vedono tutto il lavoro di agente immobiliare appunto c'è dietro la documentazione la scrematura dei contatti a negoziazione insomma non te lo devo non te lo devo spiegare io queste cose purtroppo però tu le devi spiegare ai tuoi clienti perché se non comunichi queste cose allora il cliente vede solo la punta dell'iceberg non vede la montagna di lavoro che fai per lui che c'è che c'è sotto quindi abbiamo capito per arrivare a dare un volto alla tua azienda ci devi mettere la faccia e come si fa questa cosa si fa creando contenuti quindi mi sono stanco non mi stancherò mai di dirtelo puoi creare diversi tipi di contenuti a mio avviso l'opportunità oggi è nei video è nei video perché i video hanno tanti vantaggi ci ho fatto un video sui video te lo metto nella nella scheda e a diversi a diversi vantaggi quindi non te li sto a ripetere tutti quanti ma vanno bene va bene qualsiasi media qualsiasi canale qualsiasi formato ti permetta di iniziare ad essere costante quindi ti senti senti di più di creare contenuti su un blog benissimo fai il blog fai il blog e crea un piano editoriale e fai articoli in modo costante anche quello un modo per metterci per metterci la faccia considera che quando mi contattò il il sole 24 ore quando avevo iniziato insomma erano due tre anni che facevo facevo attività di divulgazione sto parlando del 2011 quindi erano già due tre anni che divulgavo facevo content marketing che parlavo delle potenzialità del web marketing immobiliare non avevo una presenza video particolare si avevo io un primo canale youtube l'ho aperto nel 2008 2009 credo e cosa avevo avevo un blog quello che attualmente o e avevo scritto un libro quindi fondamentalmente il mio volto non è che apparisse così tanto però questo ad esempio mi ha permesso di essere notato da una testata giornalistica importante perché ci ho messo messo la faccia non mi sono limitato ad offrire i servizi ai miei clienti ok sono mi sono spinto oltre cercando di dare del valore al mercato e far capire quali erano le potenzialità di questo mezzo nello specifico per il settore il settore immobiliare puoi usare una newsletter anche in cui su questo mi sono sgolato su questo canale l'email marketing è ancora un asset cruciale fondamentale se ci fai caso le aziende che fanno bene marketing online che hanno risultati hanno come canale strategico quello dell'email facci caso e quindi non lo devi trascurare e può essere anche esso stesso un elemento per aiutarti a metterci la faccia tra l'altro come se fai parte della mia newsletter sa che in firma ogni mail c'è una foto non c'è scritto solo il mio nome c'è la foto e c'è poi ovviamente nome cognome il mio payoff e poi ci sono i link ai vari social network quindi in questo caso tu che cosa vai a fare vai a dare contenuti vai a dare valore e poi alleghi attacchi a questo contenuto di valore sempre la tua faccia con il tuo nome e il tuo cognome ecco questo anche è un modo quindi non per forza devi apparire l'ideale sarebbe avere un formato avere tutte e due i formati quindi ad esempio creare contenuti video e creare contenuti scritti l'accoppiata ad esempio video e newsletter può funzionare molto bene perché poi uno aiuta l'altro nel senso che i video da un lato ti permettono di avere più visibilità online sui social network in primis su youtube perché tu sai che youtube è un grande motore di ricerca il secondo motore di ricerca più utilizzato al mondo e la newsletter ti permette di aumentare la visibilità di dare un boost ai tuoi video infatti io stesso ogni volta che pubblico un nuovo video magari tu stai vedendo questo video grazie di mail mando appunto una newsletter in cui avviso guarda è uscito questo video e spiego perché dovrebbe vederlo i don insomma i contenuti gli highlights cioè gli spiego cosa aspettarsi da questo video poi ovviamente c'è il il link al video ad esempio se ci fai caso se hai avuto modo di acquistare mai qualche tool online qualche software online spesso c'è un'attività di newsletter di mail marketing a firma del fondatore ora immagina questo non è che il fondatore di un'azienda ma molte di queste aziende fatture fatturano diversi milioncini perché sono aziende globali non si mette lui li a scrivere a contattare i clienti però magari è stato fatto un lavoro a monte sono state fatte preparate quelle mail in anticipo ogni nuovo cliente che entra e ti ho parlato anche di mail marketing in questo canale ogni nuovo cliente che entra riceve una serie di mail e queste mail portano la firma del del fondatore sempre per rinforzarti questo concetto quindi questa cosa viene utilizzata e funziona molto bene e non vedo perché non dovremmo farlo anche nel nel settore immobiliare chiaramente questo è un aspetto come sai ci sono tanti aspetti come sai io ho creato un webinar che aggiorno ogni anno sul web marketing immobiliare e ti permette di capire non solo questo aspetto ma anche altri aspetti che ti servono per mettere in piedi una strategia di web marketing immobiliare e se ancora non hai visto questo webinar ti invito a farlo di corsa trovi il link in descrizione oppure nel nel primo commento ti chiedo un mi piace ovviamente per aiutarmi a diffondere i contenuti di questo canale farmi sapere che ci sei che apprezzi quello che sto facendo e se ancora non sei iscritto al canale fallo adesso clicca sul pulsante rosso clicca anche sulla campanella e attiva tutte le notifiche in questo modo ogni volta che esce un nuovo video riceverai una notifica sul tuo smartphone o sul browser quando esce un mio nuovo video per oggi è tutto magari aspetta un'altra cosa un'altra call to action che ti faccio è se già lo stai facendo se già stai facendo contenuti magari mettimi il link del tuo blog del tuo canale youtube qui sotto e aggiungi magari qualche dettaglio li leggo tutti personalmente per oggi è tutto alla prossima da francesco bersani ciao ciao